ah sì sì anche sono sconfiggioni per me va bene sono extreme dirty fit direi proprio di no che in italiano significa piedi tozzi questi sono calci questo è un piede cioè ho sbagliato voglio dire che erano punghi ma sono troppo fissato coi piedi allora intanto assaggia i miei piedi assaggia i miei piedi assaggia i miei piedi ah sì sì sono extreme dirty fit ah sì sì vi faccio meglio lecco e odoro i piedi alle ragazze mi piacciono i piedi chiatti orchi anneriti puzzolenti con i turoni talloni scremolati e scarpetti coltini